Giulio Base, il tuo primo Torino Film Festival, qual è il fileruce che lega questa selezione che ci hai appena raccontato con grandi titoli e anche grandi riscoperte dal passato con il tuo zi Baldoni? Ma il fileruce intanto è la sala cinematografica, la cosa a cui davvero tengo è che la sala cinematografica è totalmente al centro del festival, non ci sarà nulla slegato dalla sala, nulla slegato da un film, nessuna frattaglia, masterclass, incontri, concertini o proiezioni, c'è la sala e i film dopodiché il fileruce sono spero i buoni film, sono quelli che noi, parlo di me e della squadra di selezione abbiamo amato di più e li proponiamo con tutto l'amore possibile ai frequentatori del festival Le grandi star che ci saranno, secondo te sono un plus per invitare il pubblico a riempire Torino e le sale? Ma io mi auguro di sì e penso di sì, diciamo anche dalle reazioni che ho avuto frequentando a Torino vado spesso a piedi, la città, adesso che abbiamo annunciato Ron Ava, Sharon Stone, Matthew Brodery che era un continuo fermarmi e dire ah che bello, allora vengo è evidente che il pubblico meno accorto e magari che il festival non lo frequenta ha questi grandi nomi e abbia una reazione di stupore, di sorpresa e mi auguro che questo voglia dire anche maggiore affluenza delle sale non tanto per il gusto di dire abbiamo riempito anche perché a me è un biglietto più, un biglietto meno, parlandoci chiaro non è che mi cambia, è proprio perché l'amore per il cinema ogni spettatore in più secondo me in qualche modo il mondo diventa migliore perché il cinema è un grande strumento di cultura